Al termine della cena occorre lasciare un bel ricordo ai vostri ospiti e allora vi proponiamo varie soluzioni. Uno spettacolo di cabare magico con risate e simpatico coinvolgimento del pubblico. Silvi, lei ha una sigaretta? No, non fumo. Ecco, sì, lo sapevo che se non me la portavo io qua non si faceva niente, capito? Eh, se preoccupi, allora vorrei tentare un esperimento con questa bellissima, orca miseria, Silvi, Angeloni veste firmato, leggiamo la firma, uh, pim, complimenti a questa cosa di prima scelta. Basta prendere la sigaretta accesa, bellissima sciarpa, guardi Silvi, tada, 200 volte, mai riuscito. Silvi, lo sa che ho la mia amica che è stata la prima donna che ha fatto un figlio in provetta? Sì. Sa come ha fatto? No. Ha fatto una provetta con uno, una provetta con un altro. Ok, grazie, grazie, grazie. Allora qua ne faccio vedere che taglia perfettamente, ha visto com'è contento? Uno, due, no, venga qua. Tia tranquillo, è l'assato, ho. Lei ha la mano un po'. Ma scusi, c'è la valigia che chiude male. Come male? Ah, ecco perché chiude male, perché c'è la mano di quello di qui di sera. uno senta lei la mano un po' ci tiene allora mi dia l'altra no questa la lasci dentro mi dia l'altra la mette qua sotto così raccoglie la sua pantocasta e se no finisce in mezzo la gente devi dire datemi la mano non trovo la mano uno due tre si è tagliata la carota e la mano è rimasta intera signori un uomo duro video 5